Allora, Fabio è stato il primo a scrivermi, proprio stiamo parlando del 2004-2003, quando non c'era manco il disco di Cosang, c'erano tre pezzi di Cosang sul nostro sito. Fu uno dei primi, lui e Cosimo mi mandarono un'email, un messaggio, quindi siamo amici proprio dagli inizi. E sono coincise le due cose, il fatto che lui voleva ufficializzare questo, diciamo, questo suo... Collettivo. Questo collettivo, questo brand di Rocha Music, che lui comunque ha lanciato col suo primo mixtape, no? Questo, non so come chiamarlo, questo movimento, questo stile. Un collettivo. Questo collettivo, e lo voleva ufficializzare, e cercava comunque degli artisti che comunque avessero la sua stessa direzione. Noi eravamo amici da anni, io gli disse che avevo voglia e bisogno di un'esposizione più grande, e non potevo legarmi a nessun altro se non a lui, perché siamo... abbiamo delle personalità... Praticamente siamo uguali di carattere, è una cosa assurda, che non so se è un bene o un male. E poi avevamo un sound che si sposava, no? Diciamo, quindi era... Molti gusti in comune. Sì, sì, quindi mi era sembrata la mossa più azzeccata in quel momento, dal punto di vista sia umano che artistico. E devo dire che ha pagato. Alla fine il collettivo Rocha Music è un collettivo aperto, nel senso che ognuno di noi è indipendente, ognuno di noi ha il suo team di produttori, il suo team di videomaker. E' più una sorta di crew che si unisce per fare la forza e cercare di portare un sound in Italia, di riportare un po' lo street rap che, insomma... Sì, da una parte c'è questa cosa di rimanere molto underground come attitudine, però proponendo un suono fresco. Fresco, sì, assolutamente. Sì, una cosa abbastanza innovativa in Italia. E quindi ognuno si gestisce da soli, ci uniamo, ci spingiamo a vicenda, c'è il mio video, lo condivido, c'è il suo, lo condivido, come anche quelli degli altri. Facciamo qualche data insieme, insomma, ci chiamiamo nei featuring. E' un movimento più di essere una vera e propria record label, capito? Che anche lo è, però è più un movimento.